Buonasera, iniziamo il test driver di questa Opel Agila 1.2 benzina con impianto GPL, appena ricollaudato, quindi è valido per altri dieci anni. Allora la vettura a 135.000 km, accendiamo, aspettiamo il check. Ok, tutte le spie sono ok. Perfetto anche in frenata, bene equilibrata. Perfetto anche in frenata, bene equilibrata. Adesso stiamo andando a gas. I vallamenti rispondono molto bene, gli ammotizzatori sono in buone condizioni, non fa rumori anomali. Adesso lo mettiamo a benzina, così riconiamo anche un andamento a benzina. Abbiamo tre marci, prima, seconda, terza, quarta, quinta. Abbiamo tre marci, prima, seconda, terza, quarta, quinta. Allora mettiamo il gas. Mettiamo il gas. Vediamo che si cambia. Ecco, l'ha scambiato, l'abbiamo rimessa a gas. dobbiamo mettere la marcia. Ok. Condizione sotto sforzo. Bene. Non fare rumori anomali. Ok, aria condizionale già l'ho accesa perché fa molto caldo. Allora, esternamente con il sole sempre scotto da 60 gradi, vediamo un'uscita a 10 gradi. La remondizionata funziona bene. Due ventilazioni. Due, 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 tre. Spostamento. Spostamento. Ok. L'aria funziona tutta bene. Spostamento e aria condizionale. Poi, vetri anteriori. Ok, i posteriori sono manuali. Chiusura. Ok, centralizzato, ok. Specchietti. Vediamo il sinistro. Ok. Inizia la registrazione. A destra. Perfetto, anche a destra. Radio. Paffetto. Sovraio. Un controllo. Perfetto. Un controllo. Un controllo. Un controllo. Un controllo. vive di perdone e anche bagno notturno Mara Sabina a 15 minuti dal grado Terve Sabine E' un forso della capitale E' un po' di valentino Una grande concessionaria Fiat Megabonus per tutti fino a 6.000 euro Panda 5 volte e clima a 7.600 euro 500 a 9.950 euro Con extra sconto di 500 euro su GPL e metano 500X a 14.900 euro Tutto bene in ordine Piccolissimo buchino E' un passeggero E' un piccolissimo buchino E' un guidatore In sotto abbiamo la bombola Da questo vano in più Semplicemente la vernice è molto vicente E' un piccolo tocco da parcheggio Anche da sinistro Piccoli graffietti Posteriori sinistro sempre da parcheggio Anche qui posteriore destro Piccolissimi segni da parcheggio Questa è la versione più accessoriata E' dotata anche di cerchi in lega E di vetri oscurati CiEsco E' un piccolo Posteriori sinistro 6 e 2 posteriore sinistra 7.5 confermo l'integrità della vettura tutti gli attacchi originali il titolo trasudi tutto bene in ordine il motore perfettamente in linea abbiamo l'olio l'olio è veramente nuovo forse non l'abbiamo appena fatto bene equilibrato, silenzioso ho visto dei tagliandini qui abbiamo un tagliandino dove è un'officina apposta a 124 quindi il 2018 e qui c'è un altro a 135 infatti adesso proprio infatti l'olio era perfetto l'olio, candele confermo l'ottimo stato della vettura e i suoi 130-130 mila km grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti